Il cammino della Quaresima, come abbiamo già potuto vedere nelle scorse domeniche, è un invito a ritrovare la nostra autenticità, la nostra autenticità come persone, la nostra autenticità di credenti. Siamo passati per l'esperienza delle tentazioni, abbiamo scoperto anche domenica scorsa della necessità di togliere tanta confusione che c'è nella nostra vita e anche nella nostra vita di fede per recuperare l'essenziale. Nelle letture di questa quarta domenica di Quaresima mi ha colpito in modo particolare la prima lettura. È una lettura un po' singolare perché è proprio dal libro delle Cronache e mi sono chiesto il significato di un libro come quello delle Cronache all'interno della Sacra Scrittura. In fondo le Cronache sono la storia del popolo di Israele riletta dentro una luce che è quella della fede per cercare di riscoprire dentro gli eventi un progetto che è anche il progetto di Dio. Allora forse questa prima lettura ci rivolge un invito, un invito che è molto importante per tutti ma soprattutto per noi che siamo persone di fede, cioè la capacità di cogliere la propria vita come una storia. Molto spesso oggi noi ci approcciamo alla nostra esistenza come una serie magari di eventi scollegati fra loro, magari a sé stanti, difficilmente ci fermiamo per ritrovare magari un filo rosso che può dare senso, può dare spessore a questa nostra vicenda, la nostra vita e che può essere molto di più che una cronaca, può diventare esattamente una storia e dentro questa storia riuscire a rintracciare un progetto, una presenza del Signore, del Suo Spirito che ci guida nel nostro cammino. E allora perché a questo punto della Quaresima non soffermarci a pensare alla nostra vita proprio come questa storia che è fatta di eventi, che è fatta di passaggi, che è fatta magari di fallimenti, che è fatta di novità, di gioie, di dolori, di anni passati e riuscire a disegnare un progetto dentro questi avvenimenti che si dispiegano negli anni che compongono la nostra vita. Certamente la logica delle cronache è una logica piuttosto cruda. Loro leggono dentro le vicende del popolo di Israele essenzialmente questo, cioè quando loro sono stati fedeli a Dio, vicini al Signore, le cose e le vicende della loro vita sono state positive, sono state belle e quando si sono allontanati dal Signore hanno ricevuto la punizione, quindi i vari disastri, i vari eventi nefasti che hanno segnato anche la storia di Israele. Certo questa è una logica che non ci soddisfa e che anzi il Signore porterà a compimento diversamente, anche come dire valutando gli eventi faticosi e gli eventi potremmo dire già così di croce dentro la nostra vita in un'altra ottica. Quell'ottica che incuriosisce Nicodemo, che troviamo nel Vangelo, che di notte, di nascosto, va ad incontrare Gesù. Questa situazione è molto interessante, andare di Gesù quasi di nascosto, quasi senza farsi vedere, quasi provando un senso di vergogna, di timidezza nell'approcciarsi alla parola di Gesù, all'approcciarsi alla persona di Gesù. Mi colpisce che comunque Gesù accoglie la storia di Nicodemo, la fragilità di Nicodemo e si mette in dialogo con lui. È un dialogo molto intenso, molto importante, che anticipa nuovamente, come altri Vangeli della Quaresima, ovviamente gli eventi pasquali, e ci racconta che anche la croce, quindi anche il dolore e la sofferenza, può essere vista nel progetto di Dio, se questo progetto è segnato dalla dimensione del dono. In fondo, nella croce di Gesù, in quei giorni a Gerusalemme, sarà proprio questo, l'indice e la cifra dell'agire di Gesù, il suo donarsi totalmente.